Starwood è in tutto il mondo, sinonimo di serramenti ad alta tecnologia. Dovrebbe essere abbattuto lunedì prossimo l'immobile abusivo sito in via Contrapone in località Pioppi. Sono queste le ultime novità che riguardano l'abitazione già acquisita al patrimonio comunale dichiarata di prevalente interesse pubblico dal comune metelliano per destinarla a finalità di housing sociale. Infatti in queste ore, dopo aver portato via mobile ed altre suppellettili, si sta procedendo allo smontaggio delle porte e degli infissi. Lunedì mattina invece si procederà all'abbattimento vero e proprio. A nulla sono varsi numerosi tentativi del comune di salvare l'immobile dall'abbattimento. La procura della Repubblica è stata inflessibile nonostante è stata già fissata per il prossimo 11 aprile la discussione dell'incidente di esecuzione chiesto dal comune innanzi alla Corte di Appello di Salerno per la levoca e o la sospensione dell'ingiunzione a demolire, poiché l'ente ha tutto l'interesse in qualità di proprietario a scongiurarle che ciò avvenga. Sembra aprirsi una nuova stagione difficile sul fronte a battimenti nella città metelliana, dove sono centinaia le case sulle quali incompe l'incubo della demolizione. In atto sembra esserci però una vera e propria guerra tra il comune di Cava dei Tireni e la procura della Repubblica, che contesta le delibere con le quali il Consiglio Comunale destina a finalità di housing sociale questi immobili abusivi.